Bergkamp va a Vieira, Firicano lo ferma con grande tempismo, cercato troppo dal punto di vista estetico Vieira, molto più pratico, Firicano, Eirich. Un discreto tiratore, Eirich appoggia per Battistuta, si allunga il pallone, Battistuta, rete! La rete di Battistuta! E può essere un gol storico questo per la Fiorentina, ha chiamato il pallone, lo ha voluto lui e poi ha freddato Seaman e il delirio adesso per i tifosi viola presenti a Wembley. Un gran gol quello di Battistuta, merita di essere rivisto, guardate Eirich, allarga Battistuta, prende sul tempo Winterburn e da posizione quasi impossibile Fredda Seaman. Un gol davvero alla Battistuta, guardate Eirich dentro, Battistuta si allarga, destro secco, boom! Fiorentina in vantaggio, è davvero molto bello questo gol, capacità balistiche straordinarie di Battistuta. E la Fiorentina va in vantaggio quando resta un quarto...